È il 30 aprile 2009 e abbiamo appena terminato una prova penetrometrica dinamica a Guastalla di Reggio Emilia. Siamo proprio vicini al fiume Po, quello è l'argine, e oggi tra l'altro passa la piena del 30 aprile. La prova ha restituito dati relativi a sabbie, sabbie poco densate, come era facile attendersi. Ora, per quanto riguarda invece la falda, la falda è risultata a poca profondità, a circa mezzo metro, anche meno, dal piano calpestio. Questo è il piano dove andrà ad appoggiarsi il capannone nuovo.